cari figlioli salve e ben ritrovati che cos'è questo video beh dovrebbe essere un video approfondimento anche perché tenendo conto che nel primo video dove ho mostrato il glitch per guadagnare i soldi o per comunque ripristinare i propri soldi ho messo di riportare la parte finale nel momento in cui si riavvia il gioco c'è un qualcosa di un po particolare che magari è più servito a destabilizzarli a spaventarli quindi vediamo nel dettaglio anche quell'aspetto ma soprattutto ho voluto fare delle verifiche che adesso poi vi andrò a dimostrare il video precedente l'ho disabilitato quindi l'ho reso privato in modo che nessuno più potesse vederlo per fare queste verifiche sono abbastanza convinto che tutto quello che vi ho detto è giusto quindi adesso lo rimetto poi vabbè ci sarà sempre il povero bimbo che non è capace a fare il glitch e quindi mette dislike afferma che non funziona e via dicendo purtroppo quelli ci sono sempre fanno parte del gioco e vabbè detto ciò entriamo dentro adesso state vedendo una visuale un po diversa non sto registrando il gioco ma sto registrando il mio monitor così vi faccio anche vedere tutti i vari passi che faccio per fare il glitch senza tagli nelle parti noiose velocizzerò così dovreste vedere un po tutto allora fammi andare nel mia nella mia auto come vedete c'ho 16 milioni adesso dimostrazione che il glitch funziona poi ho altre auto molto cari che ho comprato abbiamo la ken in sega abbiamo poi ho preso la vulcan ho preso la questa cos'è la pagani poi abbiamo preso la ferrari quindi come vedete abbiamo acquistato già un po di macchine confermo che il glitch funziona sia per pc che per ps4 mentre per xbox non ho avuto modo di provarlo io non ho le console quindi non posso mettere il pisello sul fuoco ma ci metto la mano sul fuoco che funziona per queste due piattaforme che vi ho detto l'xbox purtroppo magari qualcuno di voi potrebbe provare e dirmi se c'è riuscito se funziona allora rifacciamo di nuovo tutto da capo usciamo ok prima di tutto mi sono fatto l'ennesima copia dei file di salvataggio lo potrete trovare in window in documenti e poi new for speed c'è la cartella save save game fate il backup per sicurezza ogni volta che fate cose strane oppure anche solo per avere un backup non si sa mai cosa succede ci si tiene i propri file da parte allora continuiamo vai adesso mi chiederà il login cioè farà automaticamente login e server come vedete la connessione è attiva in basso a destra trovate la finestrella con le mie impostazioni di rete gioca online si andiamo vedete ho 16 milioni benissimo ok ci sta un po a entrare soprattutto l'online un pochettino più lento ok buono benissimo allora entriamo abbiamo i nostri 16 milioni 19 automobili si stai buono stai buono andiamo usciamo di giorno ok quando siamo qui quando siamo qui dobbiamo disconnettere la nostra connessione possiamo farlo nei più disparati modi io ve li ho già elencati nel primo video io vado qui e disconnetto disabilito ok come vedete i nostri server ci danno restituiscono errore noi confermiamo ci riporta automaticamente nella lobby e da questa da questa schermata noi andiamo a giocare in solo abbiamo sempre i nostri 16 milioni vai ah ovviamente dobbiamo dobbiamo riabilitare subito non c'è bisogno di lasciarlo offline ok siamo sempre qui abbiamo sempre 19 auto 16 milioni usciamo fuori giorno ok ok quando siamo qui dobbiamo dire che vogliamo giocare online la nostra connessione è attiva quindi procediamo benissimo ora siamo online vedete che sta tipo pingandoci l'iconcina del dia che si era accesa adesso andiamo nella nostra cartella qui delle delle connessioni e andiamo a disabilitare ci viene restituito l'errore giustamente ovviamente abilitiamo alla subito ok funziona di nuovo adesso gli diciamo che vogliamo giocare nuovamente online e a questo punto il glice è attivo benissimo andiamo a comprare tutte le macchine che vogliamo ci spostiamo così che facciamo un attimo prima da questo momento in poi anche quando rientreremo in partita la connessione deve essere sempre sempre attiva e dovremo poi uscire normalmente quindi non dobbiamo più fare niente di strano non a caso è un glice se no che glice sarebbe se non potessimo farlo tutto normalmente allora adesso per visto che le macchine usate cioè le macchine che acquistiamo una volta che le vendiamo vengono vendute a metà del prezzo se vogliamo guadagnare bisogna fare due volte il giro cosa significa un giro significa che io ho 16 milioni ne posso comprare 8 di queste qua poi devo andare passare sotto l'auto velox rifarmi di nuovo 16 milioni e ricomprare altre 8 auto in questo modo andrò a guadagnare se invece lo faccio una volta sola visto che le macchine valgono la metà una volta che le vendiamo al massimo arriviamo in pari non neanche non dovremo neanche poi raggiungere raggiungere la cifra che abbiamo attualmente quindi bisogna fare questo lavoro vai compriamo certo che non 16 milioni se ne comprano già tantissime io le invio al garage tecnicamente non dovrebbe influire sul sull'efficacia poi del glice inverosibilmente è più lungo guadagnare soldi quando si ha tanti soldi di quando se ne ha pochi perché come vi ho detto bisogna fare svuotare tutto questo conto ripristinarlo e risuotare una seconda volta quindi diventa lungo perché ci sono davvero tante auto da comprare ogni volta ci butta fuori sto infame di gioco dobbiamo rientrare nel garage a scorrere nuovamente tutto un centinaio di automobili e quindi questo è un aspetto abbastanza lungo perché vi dico che bisogna fare due volte così perché quando poi rientreremo in partita quindi usciamo dal gioco e rientriamo giustamente il gioco ci toglie tutti i soldi che abbiamo come se avessimo realmente acquistato tutte queste auto qua o meglio solamente un giro perché non ci può togliere 30 milioni cioè ci toglie i 16 che abbiamo che abbiamo attualmente quindi tutto quello che facciamo nel secondo giro quando avremo ripristinato per la seconda volta i soldi quelli sono tutti i soldi che andremo a guadagnare ok sono gli ultimi soldi che sto spendendo non ne ho altri e adesso giustamente ci andiamo a ripristinare il nostro conto prendiamoci un attimino di rincorsa vi ricordo che per attivare il glitch bisogna fare almeno una stellina quindi passiamo belli decisi sotto quell'autovelox ok ci siamo fatti la nostra stellina e i nostri soldi sono nuovamente 16.000 quindi adesso se vogliamo guadagnare dei soldi dobbiamo rifare di nuovo tutto questo giro per quello che vi dicevo che quasi quasi è più facile quando si hanno pochi soldi ovviamente però il nostro conto sarà decisamente più piccolo anche se poi non trovo così necessario avere tutti sti soldi io li sto facendo perché sto testando il glitch e quindi di volta in volta divento sempre più ricco nel gioco allora rifacciamo di nuovo tutto a capo e compriamo un sacco di altre mclaren ok abbiamo finito il secondo giro quindi andiamo a prendere la nostra bella spinta necessaria a fare le varie stelle ops e andiamo a resettare i nostri soldi adesso come vedete ne ho 73 sono rimasto senza ok adesso ne abbiamo nuovamente 16 milioni molto bene ovviamente potete fare la stessa cosa anche presso il ricambista io per esempio mi sono comprato un sacco di motori così quando poi andremo a elaborare future auto al di là dei soldi ho già dei pezzi per elaborarli quindi andiamo qui per esempio motore guardate di questo ne ho due di questo ne ho due di questo ne ho due ci abbiamo un inventario poi tutte queste cose le andiamo a fare anche in un video apposito dove vi spiego le stranezze del gioco che non ci vengono raccontate quindi io posso andare e acquistare un duplicato vedete acquista duplicato ok infatti come vedete tutte le parti sono tornate normali e quindi di conseguenza potrei ricomprare altri alberi motori plus vedete ne ho già tre acquista un duplicato e in questo modo mi metto da parte ulteriori soldi questi poi non li vado a vendere quindi magari dai soldi sembrerà che avrò meno soldi però in realtà ho tantissime altre parti meccaniche chissà perché queste non ce le ho che avevo già comprate boh solamente una queste qua non me le sta salvando boh non lo so ci compriamo anche la turbina vedete ne ho già una di questa acquista un duplicato ok vabbè aspetta no non voglio questa voglio quella da cinque va bene arrivati a questo punto io adesso mi rifaccio così per scrupolo mi ripristino di nuovo i soldi anche se in questo caso vabbè non ho comprato altri motori altre cose perché ne avevo già abbastanza ok ci siamo fatti il nostro autovelox abbiamo 16 e 2 allora a questo punto zitta una zitta a questo punto ritorniamo nel nostro garage e e tecnicamente una volta che si entra all'interno del garage dovremmo essere abbastanza sicuri che sta realmente sovrascrivendo i file di gioco e quindi noi cosa facciamo furbamente guardate abbiamo 35 automobili più 16 milioni 16 milioni li andremo a perdere quando rientreremo ma dovremmo avere i 30 le 35 automobili più tutti i motori e pezzi di cambio che abbiamo acquistato quindi io per sicurezza vado nella mia cartella di gioco copia e incolla mi faccio l'ennesimo backup che sarà la cartella 26 avrò questi queste informazioni di gioco qua se siete nelle console potete fare anche voi la copia dei salvataggi ora fatta la doverosa copia di backup buttiamo un'occhiatina così giusto per vedere guardate quante più non abbiamo tantissime poi abbiamo anche diverse ferrari che quando rimanevo senza soldi compravo le ferrari che costano un po di meno benissimo abbiamo tante usci cosa facciamo usciamo un attimo fuori non so se questo passaggio è necessario però mi accorgo che se lo faccio solitamente il glitch mi mantiene poi le macchine che abbiamo acquistato quindi usciamo nuovamente fuori nel garage dal garage ok a questo punto sempre con la connessione attiva tutto normalmente andiamo nella lobby quindi usciamo dal gioco ok quando siamo in questo menu qua che come vedete ci dirà i soldi se ce la fa mazza quanto è lento ok sempre 16.2002 con questa macchina qua usciamo normalmente sì benissimo ora andiamo ad avviare il gioco lo avviamo normalmente con la connessione attiva quindi vai gioca ok avviamo facciamo il login ai server sincronizzazione ok ci dà il nostro errore confermiamo vede che c'è una grossa disparità tra quello che erano i file locali sul nostro pc e quello che invece rivedeva nel loro server come vedete non abbiamo soldi abbiamo 79 mila adesso dobbiamo incrociare le dita e sperare di avere quelle 35 mi sembra 35 auto nel garage dobbiamo accedere da solo quindi gioca da solo non online la connessione come vedete è attiva andiamo ci chiede il tuo inventario non corrisponde sì poi anche qualora non dovesse funzionare noi abbiamo sempre la nostra copia di gioco che è antecedente a questo passaggio quindi ancora devo capire eventualmente perché ogni tanto non ti salva le auto che si è comprati che si è comprati precedentemente però abbiamo quindi la possibilità di rifarlo qualora in un'occasione non funzionasse ok crociamo le dita incrociamo le dita incrociamo le dita ok non ha funzionato come vedete abbiamo le auto che abbiamo precedentemente inizio il glitch quindi che cosa facciamo usciamo che vai alla lobby chiudiamo il gioco ci andiamo a recuperare il salvataggio che abbiamo appena fatto quindi copriamo e ce lo andiamo a mettere nel file principale ok avviamo ok facciamo il nostro login in questo caso non ci sta dando errore e questo non è buono no come vedete abbiamo 16 milioni gioca da solo no ha funzionato guardate abbiamo 16 milioni e le 35 automobili quindi come vedete ricaricando il salvataggio questa volta ce l'ha accettato ok pensavo di solito doveva dare quell'errore 4 mila e 4 milioni e passa invece non l'ha dato e ha salvato tutte le macchine ecco quello che mi stupisce il fatto che ci ha dato anche i soldi tecnicamente dovevamo rimanere a zero con i soldi e poi metterci lì a vendere tutte le macchine macchine che ci siamo acquistati per rifarci i soldi mi rompo veramente tantissimo le balle a vendere le macchine è la parte più noiosa secondo me acquistare ancora ma poi vendere quindi dobbiamo andare poi qua se voi non vedete le vostre macchine leggete in basso vai al garage della crew quindi cliccate x se siete in questa modalità qui che vedete le macchine della crew semplicemente cliccate x e vi mostra le vostre automobili accediamo su una qualsiasi cambia auto ci dobbiamo imbeccare la macchina che vogliamo vendere tipo questa e facciamo vendi vedete un milione e tre poi ci dice che ci tiene i ricambi performance nel nostro magazzino e dobbiamo fare così con tutte le macchine quindi sbatterci tantissimo a vendere però c'è da dire che secondo me scusate basta farlo una volta sola e poi sono talmente tanti soldi che non ha più senso continuare a farlo poi troppi 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 soldi ci si può comprare tutto alla fin fine ripeto io ho fatto più volte questo glitch per testarlo non perché volessi ancora tanti altri soldi come siamo arrivati attualmente bene questa qui mi vendo l'ultima ferrari e tecnicamente ho venduto tutti i doppioni delle auto che ho acquistato ok molto bene allora come vedete siamo arrivati alla bellezza di 36 milioni e 700 quindi sono una cifra decisamente spaventosa più tutti i motori e i pezzi di ricambio che abbiamo acquistati che quelli sono disponibili qualora volessimo poi elaborare altre automobili come vedete il glitch funziona si ha la possibilità in io chiacchierando ci sono stato 25 minuti adesso per riavviare caricare le partite ricaricare il salvataggio e fare tutto questo lavoro il video adesso in questo momento dura 25 minuti poi voi avrete dei tagli delle parti velocizzate quindi vi sembrerà più corto però 25 minuti è il tempo che c'è voluto devo ancora capire il perché in certe occasioni non ci salva le automobili acquistate però se vi fate il backup come ho fatto io vi fate la copia nel momento in cui avete acquistato le vostre 10 20 30 100 automobili in quel momento siete abbastanza sicuri provate a ricaricare fino a quando non accetta quel salvataggio questo sarebbe una cosa che poi dovrei ulteriormente verificare ma non credo che andrò a perdere ancora altro tempo visto sono due giorni che sto dedicando esclusivamente a questo questi due video quindi credo che mi fermerò qua ora cosa facciamo semplicemente usciamo usciamo normalmente dalla partita come facciamo sempre tasto tab per chi gioca da pc vai nella lobby abbiamo 36 milioni e 7 guardate ok abbiamo di nuovo 36 milioni e 7 usciamo chiudiamo ufficialmente il gioco a questo punto che siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto quindi abbiamo tantissimi soldi ci facciamo la copia il backup di questa cartella se volete cancellate quelli precedenti io li tengo per comodità per avere una numerazione che vi fa automaticamente quindi nella cartella mia 27 io ce l'avrò 36 milioni di gioco e tutte quelle macchine e quei pezzi adesso avviamo di nuovo il gioco tecnicamente adesso dovrebbe riconoscere l'ultimo salvataggio che abbiamo fatto quindi quando siamo usciti dal gioco lo dovrebbe riconoscere come un normalissimo salvataggio non dovrebbe dare più nessun tipo di errore né tipo di sincronizzazione non corretta allora vai facciamo il login ai server vediamo non dovrebbe dare errore ok perfetto nessun errore adesso potete giocare sia online che offline assolutamente indifferente abbiamo 36 milioni e 7 vediamo un pochettino abbiamo i nostri 36 milioni le nostre 19 automobili che avevamo precedentemente quindi come vedete il file ora viene riconosciuto corretto non c'è più nessun errore e il glitch si può dire andato a buon fine quindi valutate voi noi ci abbiamo messo 25 minuti per passare se non sbaglio eravamo a 18 milioni o 16 milioni non ricordo per arrivare a 36 milioni quindi abbiamo quasi raddoppiato la cifra quindi boh che dire possiamo concludere questo questo lunghissimo test che ho fatto io mi raccomando non scrivete cose che non sono vere non scrivete cose solo perché magari voi non riuscite applicatevi un pochettino e tentate come vedete anch'io ho riscontrato parecchi problemi bisogna sbattersi un pochettino mi raccomando fatevi sempre la copia dei file originali perché altrimenti si potrebbe anche rischiare un qualcosa di peggio mi raccomando lasciate un bel like condividete e noi ci vediamo come sempre prestissimo in altro video ciao a tutti